Un saluto a voi tutti, bentrovati, edizione dell'ora di pranzo per il Tg di Rete 55. Tra poco le 15.30 di questo pomeriggio i cavalierati in prefettura, cerimonia tradizionale molto attesa che riconosce coloro che attraverso il loro impegno professionale, ma anche sociale e culturale in altri ambiti della collettività hanno dato lustro al nostro territorio, si tratta di onorificenze decise dalla Presidenza della Repubblica e consegnate brevi mano dalla Prefettura, in questo caso dal Prefetto Dario Caputo. C'è un elenco ovviamente di riconoscimenti, mi piace sottolinearne due perché si tratta di persone molto varesine, molto conosciute sul territorio e anche frequenti ospiti delle trasmissioni di Rete 55. Serena Contini, esperta d'arte, curatrice di molte mostre, attualmente per esempio quella al castello di Masnago su Piero Chiara è curata proprio da lei, ma anche storica delle radici locali dal punto di vista monumentale, dal punto di vista artistico, dal punto di vista dei tanti beni patrimoniali che costellano il territorio. E poi Marco Ascoli, avvocato ma anche fondatore e patron della Fondazione Giacomo Ascoli, che come sapete si impegna tutti i giorni da parecchi anni contro le malattie oncologiche che colpiscono i bambini. Stasera sapremo dirvi di più. Adesso guardiamo all'economia da due punti di vista diversi. Prima è quella della innovazione digitale, ma nelle realtà più piccole, perché spesso si parla di digitalizzazione guardando all'industria e guardando alle grandi imprese. Ieri invece Confcommercio ha presentato uno studio che guarda all'innovazione portata nelle piccole realtà, i negozi, gli alberghi, le aziende di servizio, magari anche aziende individuali con un solo imprenditore nonché factotum. Ecco cos'è emerso. A che punto è l'innovazione digitale del terziario Varesino? Cerca di rispondere Confcommercio, che in collaborazione con Ecolab Research Network e col professor Minello dell'Università Ca' Foscari ha messo a punto una ricerca e interpellato 318 imprese del Varesotto, tra commercio, turismo e servizi, con particolare attenzione ad aziende piccole, piccolissime, spesso, individuali. Il risultato è da associare agli effetti della pandemia, che tra lockdown e smart working ha costretto molte realtà ad accelerare i tempi per restare sul mercato. I dati più importanti che emergono sono la consapevolezza. Inevitabilmente la pandemia ha portato un livello di consapevolezza sulla digitalizzazione delle imprese estremamente elevata, accelerando probabilmente di cinque anni quello che sarebbe stato il processo naturale. I ritardi di alcune imprese sono dovuti a resistenze culturali, a diffidenza e ad altri fattori ben riassunti nello specchietto proposto dal sondaggio, che per quanto riguarda Varese vede una minoranza di scettici, un 10% di gregari, cioè di chi si adegua a tecnologie già diffuse e collaudate, un buon 26,7% di innovatori e un'ampia fetta di prudenti. Nel caso di Varese notiamo che quasi il 60% rientra nel profilo dei prudenti, cioè le imprese non sono negative nei confronti dell'innovazione digitale e della digitalizzazione, però hanno una certa cautela. Da qui, chiosa il Presidente, l'esigenza di investire in formazione e accompagnamento. Stiamo lavorando per trovare dalla formazione a sostegni economici, a strumenti di supporto alla digitalizzazione all'interno delle nostre associazioni, proprio a fronte di un aiuto concreto a queste imprese. La suggestiva immagine che vedete alle mie spalle ci parla ancora di economia, ma da tutt'altro punto di vista. Questa è infatti un fermo immagine di Hot Wheels, uno dei videogiochi di maggior successo degli ultimi anni. Sta sfiorando un milione di copie vendute in pochissimi mesi in tutto il mondo. Quello che forse non tutti sanno è che l'azienda che l'ha prodotto sta a Milano e la capitana di impresa che la guida è Varesina, si chiama Luisa Bixio, è stata nostra ospite e ha anche annunciato orgogliosamente che, grazie a questo gioco, l'azienda Milestone è candidata all'Oscar del videogame. Un grande risultato che porta il Made in Italy sul tetto del mondo. Milestone, azienda leader nel settore videogiochi, con sede a Milano, 300 dipendenti, una predilezione per l'intrattenimento a due e quattro ruote, è capitanata dalla Varesina Luisa Bixio e candidata all'Oscar del videogame grazie allo straordinario successo del suo Hot Wheels. Questo gioco ci ha dato molte soddisfazioni. E lì arriviamo alla chicca con cui ho aperto. Posso dire, se vuoi, non l'ho ancora detto da nessuna parte, però siamo avviati al vendere al milione di copie vendute nei primi tre mesi, che è moltissimo per un gioco, per un gioco che ho poi fatto un'azienda italiana, delle nostre dimensioni. E arriviamo alla candidatura, dai. E poi arriviamo alla candidatura. Noi siamo stati felicissimi, siamo stati selezionati come nella categoria sport e racing al videogame awards di Los Angeles. Il videogame awards di Los Angeles è il più importante premio nel mondo del videogioco, come l'Oscar lo è per il mondo del cinema. Il settore in questione, quello del videogame, è poco dibattuto, ma molto vivace, come ci spiega Bixio, che siede ai vertici dell'associazione di categoria Idea. È un mercato importante, è un mercato che nel suo insieme vale più di cinema, televisione, musica, sommati. È un mercato che a livello mondiale vale oltre 200 miliardi e che a livello italiano supera i 2 miliardi. Quindi noi consumiamo tantissimi videogiochi, giochiamo molto. Come dire, le potenzialità sono ancora tante, così come i margini di crescita e le opportunità lavorative. Peccato che a mancare all'appello siano alcune figure professionali. C'è una incredibile carenza di programmatori. Io questo lo dico a chi ci ascolta, ma insomma tutte le aziende del settore sono alla disperata ricerca di programmatore. I giovani sono avvisati, chi si occupa di formazione anche, e se poi le istituzioni locali volessero cogliere la palla al balzo, le opportunità crescerebbero in modo esponenziale. Il mondo del videogioco è un mondo vicino ai ragazzi, è un mondo, ripeto, dove si fa formazione e tecnologia. Stanno nascendo in Italia alcuni hub per start-up molto belli. Sono nati a Roma, a Bologna, a Torino. Io mi permetta anche un'istituzione, un invito sulle istituzioni lombarde, e qui siamo a Varese, quindi anche a Varesine, al guardare con interesse l'ipotesi anche di investire nella crescita di studi, di start-up in questo mondo, che è un mondo che ha delle dimensioni che pochissimi conoscono. E tra l'altro l'intervista a Luisa Bixio sarà trasmessa in maniera integrale domenica alle 20.30, qui su Rete 55. Gli interlocutori che invece vedete alle mie spalle vi stanno presentando questo libro, Arte in pandemia, sarà presentato ufficialmente domenica alle 10.30 a Multisala Impero di Varese. Si tratta di un'opera veramente mastodontica, importante, ambiziosa, che vi consigliamo di non perdere, vi consigliamo anche di prenotare un vostro posto alle 10.30 di domenica al MIV. Perché? Perché questo libro, fortemente voluto e curato da Antonio Bandirali, che è il presidente del Circolo degli Artisti, raccoglie pensieri, aneddoti, considerazioni e riflessioni sul lungo periodo di pandemia che purtroppo ancora non ci ha lasciato in pace, ma senza parlare in termini scientifici, medici, senza analisi di tipo polemico o comunque serio. Si parla di arte, di cultura, di bellezza, di tutto ciò che è stato innescato da un punto di vista virtuoso durante quel periodo. 170 le firme riportate in questo volume, quindi davvero un'opera interessante. Adesso invece guardiamo alla mostra inaugurata ieri, alla presenza di diverse autorità, in Sala Veratti, a Varese. Ci parla di arte, ma ci parla anche di bellezza, ci parla di impegno sociale e ci parla di cavalli. Warsaw, l'anima del mondo, è la onlus che utilizza lo sport come mezzo di integrazione sociale, promuovendo e sostenendo il paradressage. Fondata da Ghea Inaudi, la pronipote del secondo presidente della Repubblica, Luigi Inaudi, e da Filippo Grizzetti, figlio di Bruno, noto allenatore di cavalli, l'associazione sta mandando in scena una mostra originale, aperta tutti i giorni dalle 14 alle 19 in Sala Veratti a Varese, dove, oltre alle foto degli atleti di Warsaw Onlus, sono in mostra le opere del pittore Leo Spaventa Filippi della collezione Grizzetti. All'inaugurazione non mancava la figlia dell'artista Silvia, che ha ricordato così il padre, illustre protagonista del panorama culturale italiano del Novecento. La nostra quotidianità è una quotidianità semplice ma molto profonda. Ricordo mio padre che sempre la domenica, perché era l'unico giorno in cui ci si poteva riunire, soleva mettermi proprio su questo divano e leggermi le poesie di Leopardi, perché lui è un poeta che ha amato tantissimo e chissà, forse mi ha trasmesso già dalla primissima infanzia questa passione e infatti ho coltivato per tutta la vita il piacere della lettura e della letteratura, infatti insegno lettere e devo forse anche a mio padre, ripeto, chissà questo germe che ha voluto immettere nel mio animo. Era una quotidianità in cui comunque si parlava, ci si scambiavano tutti i pensieri, non c'erano assolutamente veli, pudori nel dirsi anche le cose più intime. È stata veramente una bella famiglia e sono doppiamente contenta che con questa iniziativa ho l'occasione anche di ricordare la memoria di mia mamma che purtroppo è mancata quest'anno a maggio. Quando lei chiude gli occhi e pensa a suo papà, che profumo sente? Profumo di bontà e di onestà, gli stessi valori che mi ha trasmesso. Era una persona buona, era una persona veramente eccezionale con un carattere fantastico, un carattere meraviglioso, sempre mite, sempre pacato, sempre col sorriso sulle labbra. Molto più di me, io vorrei essere come lui. Nella nuova puntata di Poetando torna a ospite il professor Silvio Raffo, vediamo perché. Io riprendo subito i quattro versi che si trovano proprio sulla copertina. Ah, quelli cattivissimi! Ma quelli sono troppo cattivi! Chiedo conto a Silvio Raffo di questi versi, perché c'è anche un Dio in anarcatura, in enjambament, come si dice, ma io uso il termine italiano e preferisco parlare di inarcatura. Compì quel solo errore, Dio, e qui in inarcatura con la virgola, potestà infinita. Donò ad Adamo il cuore e il seme della vita. Allora, hai scelto la poesia più terribile, però l'ha messa anche in copertina l'editore, senza... non lo sapevo io. Allora, compì quel solo... si intitola L'errore di Dio. Compì quel solo errore, Dio, potestà infinita. Donò ad Adamo il cuore e il seme della vita. Sì, diciamo che a volte ai poeti piace anche esagerare. Il concetto è questo. Io mi sono immedesimato in quello che potrebbe essere stata la reazione degli angeli alla creazione dell'uomo. Gli angeli, non credo che siano stati molto entusiasti quando questo mostriciattolo è stato generato, insomma, perché presentivano forse che sarebbero stati, insomma, molti guai quelli che erano collegati alla nascita dell'uomo. Tuttavia la vita è un'avventura meravigliosa. Che gli uomini siano in gran parte idioti è una realtà contro la quale non possiamo fare nulla. Ma Dio ha donato solo il cuore ad Adamo, ma la mente gli ha regalato il serpente attraverso la mera. Il primo a parlare fu il serpente. Ma il serpente, convincendo Adamo, sul suggerimento anche di Eva, a mangiare la mela, toglie Adamo. Perché è proprio questo che dico, si vede che anche senza leggerlo hai presentito che parlavo di questo. Non dice come nasce la parola, il sacro testo. Dice unicamente che Dio impose ad Adamo quella sola legge. L'idiota non gli diede ascolto, temendo un bene gli venisse tolto. E il secondo a parlare fu il serpente. Inaugurato a Castellanza un nuovo campo da bocce. Uno degli sport tra l'altro più praticati. Rete 55 ogni venerdì sera dedica uno spazio molto seguito ai tanti appassionati di questa disciplina. L'impianto nel dettaglio è regolamentare. Misura 26,50 metri per 4 e ha un fondo in erba sintetica. Potrà servire gli abitanti del quartiere perché si tratta del Parco Buongesù. Non è l'unica novità presentata ieri a Castellanza perché è stato anche presentato il nuovo parcheggio disponibile in via Canova. Adesso andiamo a Somma Lombardo. A Somma Lombardo infatti si respira clima natalizio intorno al monumento più prestigioso del territorio, il Castello. Sabato 4 e domenica 5 dicembre torna al Mercatino per il Natale al Castello Visconti di Somma Lombardo. Dopo l'edizione digitale proposta nel 2020 si riparte in presenza per la dodicesima edizione di questo evento diventato ormai tradizione per la città. Sono attesi numerosi espositori e artigiani. Immancabili anche le golosità pensate per piccoli e adulti, dunque stand gastronomici ricchi di ghiottonerie. L'evento è patrocinato dal Comune di Somma Lombardo ed è organizzato da Malpensa Meetings, fondamentale rispetto della normativa anti-Covid. Siamo davvero emozionati di poter vivere di persone in presenza i nostri mercatini di Natale che quest'anno saranno la loro dodicesima edizione qui al Castello Visconti di Somma Lombardo. È davvero un anno particolare perché riprendiamo in presenza dopo la sospensione dell'anno scorso dove eravamo stati costretti a farli in modo digitale. Quest'anno saremo presenti al Castello sabato 4 e domenica 5 dicembre, sabato dalle 14 alle 20 e domenica dalle 10 alle 19 nella parte antica dell'all'antica del Castello di Somma dove come di consueto troverete i nostri artigiani che proporranno le loro creazioni per il Natale. Per noi è assolutamente fondamentale che vengano rispettate delle semplici e ormai che conosciamo tutti regole ma in maniera assolutamente prudenziale. Quindi innanzitutto l'obbligo del Green Pass, quindi tutti coloro che vorranno accedere all'interno dell'evento dovranno esibire il loro Green Pass ai guardiafuochi che faranno un controllo nel viale d'ingresso del Castello. Ricordiamo che comunque il Green Pass è obbligatorio per visitare tutto l'evento anche all'aperto, anche nel centro storico per legge. Mentre all'interno dell'area del Castello chiediamo la cortesia a tutti quanti di mantenere sempre la mascherina indossata anche negli spazi aperti così da applicare un'ulteriore misura di contenimento e di prevenzione. Ultima regola chiaramente è quella del distanziamento, infatti gli ingressi saranno come sempre gratuiti però verranno regolati in base all'afflusso delle persone ovvero mano a mano che le persone accederanno all'interno del Castello esibendo il proprio Green Pass potremo anche decidere di bloccare gli ingressi per qualche minuto fino a che qualcun altro non sarà uscito in maniera tale da avere sempre un numero giusto di persone all'interno del Castello. Pagina sportiva che iniziamo con il calcio bianco-blu perché la Propater si appresta alla sfida col Ferral Pissalò. Ferral Pissalò che è una formazione ambiziosa, è quarta in classifica attualmente ed è una formazione solida in quanto è sia la seconda miglior difesa del campionato sia il secondo miglior attacco del campionato. Ferral Pissalò arriva da 12 risultati utili consecutivi frutto di 8 vittorie e 4 pareggi. Nell'ultima partita hanno vinto 6-0 in casa contro la Pergolettese, quindi arrivano da un momento estremamente positivo ma questo per il gioco delle probabilità è una cosa positiva per noi. Il loro allenatore è Stefano Vecchi e giocano generalmente con un 4-3-1-2. Allora in difesa il loro punto centrale è Capitan Legati che è un giocatore di esperienza, un classe 86, che ce lo ricordiamo quando era giovane ai tempi del Legnano. In difesa loro hanno acquistato per aumentare il tasso di esperienza proprio quest'anno Pisano. Pisano, Eros Pisano, giocatore nato a Busto, cresciuto nell'Antoniana con esperienze in Serie A nel Palermo e nel Genoa. L'anno scorso era Pisa in Serie B, quest'anno è stato acquistato. Però nelle ultime partite non ha giocato per dei problemi e degli infortuni, quindi non so se contro di noi giocherà, probabilmente no. Poi abbiamo invece come centrocampista offensivo Di Molfetta, in attacco, il secondo miglior attacco del campionato è formato da un bomber, forte fisicamente, che è Miracoli. Infatti è alto 1,90 della classica punta centrale, che ce lo ricordiamo come avversario nel Como in Serie C oppure nella Sampietta Vettese. Ex Varese anche lui. Ex Varese. E lui è il capocannoniere della squadra perché ha già segnato 7 gol. E accanto a lui dovrebbe giocare o Luppi, che per ora ha già segnato 6 gol, che l'anno scorso ha giocato nel Modena e nel Legnago, oppure Guerra, autore di una doppietta nell'ultima partita. Quindi loro hanno come punto di forza anche il reparto offensivo perché hanno anche più soluzioni nel caso. Attenzione a Balestrero, che arriva dal Matelica, che è un giocatore atipico, sia a livello fisico che a livello tecnico, è difficilmente collocabile in campo, ma è un giocatore che dà fastidio. E adesso il basket che ci porta in Serie C Gold. Prossimo turno di Serie C Gold nel fine settimana. Nell'ultimo turno c'è stato qualche rinvio per Covid. Speriamo non ce ne siano anche nel prossimo per dare continuità al campionato, anche per metterci alle spalle questo brutto periodo. Iniziamo dalle partite del Girone Blu, quindi quello più a destra della Lombardia. Si giocherà Piadena contro Ospitaletto. Attenzione perché Ospitaletto è una di quelle squadre che ha rinviato, vedremo. Sanse contro Soresina, vale lo stesso discorso di Ospitaletto. Gardonese-Gorle, Mazzano-Olimpia-Lumezzane e Pizzighettone-Iseo. Partita della settimana, Pizzighettone-Iseo. Noi non è che vogliamo gufarla, però tutti vanno alla caccia della capolista. Quindi, attenzione, Pizzighettone potrebbe poi trovare ulteriori difficoltà contro Iseo, sia una squadra di alto livello che potrebbe dare fastidio alla capolista. Nel Girone Giallo, quello centrale, Cusano contro Lissone. Lissone ritrovata. Seriana-Nembro contro Cernusco. Cermenate-Socialosa, Romano-Fortitudo-Busnago e Bocconi-Palminano. Partita della settimana, Bocconi-Palminano. Derby di Milano, ok, sì, non solo. Bocconi è entrato in ritmo, ha iniziato a vincere le partite. Palminano però sa che ha bisogno di una vittoria per tenerli lontani, per tenerli fuori dalla zona play-off. Andiamo a vedere quello che è invece nel Girone Verde. Ci sarà Saronno contro il Team Battaglia e ricordatevi, all'andata aveva vinto proprio il Team Battaglia, sorprendendo un po' Saronno, dunque c'è voglia di rivarsa per la squadra saronnese. Varese Academy contro Gazzada, Sporting Milano 3, Busto, Gallarate e Valceresio. E Nerviano opera. Partita della settimana, forse possiamo dire Milano 3, Busto, perché recentemente Busto ha perso contro Gallarate l'ultimo turno, è uguale Milano 3 contro Gazzada. Questa partita di fatto vale punti doppi. Questo è il turno di Serie C Gold del fine settimana. Per tutti gli altri approfondimenti ci vediamo il martedì alle 23 con 55 a canestro. Infine Mondo Galoppo che nella puntata più recente ci parla della Japan Cup. Gran Glory, la figlia di Olympic Glory e Madonna Lili, è arrivata quinta domenica scorsa nella 41esima Japan Cup, a cinque lunghezze dal favoritissimo Contrail, preceduta anche da Autority, Sharia e Sunray Pocket. La cinque anni, allenata da Gianluca Bietolini e interpretata da Christian De Muro, avrebbe potuto forse ottenere qualcosa di più sui 2400 metri di Tokyo se avesse avuto una corsa più agevole, perché ha subito un intralcio sulla prima curva e una interferenza in retta d'arriva. Lo chiedo subito al suo allenatore Gianluca Bietolini, che è in collegamento con noi e a cui faccio i complimenti. Complimenti Gianluca. Grazie per i complimenti, intanto buongiorno a tutti. Che dire, la corsa, parlando della corsa, già dobbiamo dire che siamo completamente soddisfatti della prestazione della cavalla, avremmo sicuramente firmato per un quinto posto a priori, quindi va benissimo. Poi a corsa fatta, il normale ha subito un cross, subito dopo la prima curva, poi fra l'altro dal favorito o contro, quando c'è stata quell'accelerazione pazzesca da parte di un altro concorrente. Quel cross gli ha fatto perdere tre o quattro posizioni, la cavalla poi è stata costretta a trovarsi al centro del gruppo e quindi un po' di intraccio indirittura per tirare fuori a tutti, ma è finita con un crescendo eccezionale per venire a prendere questo quinto posto. Fra l'altro lei insieme a Contral sono i due cavalli che hanno fatto gli ultimi 600 più veloci di tutti e lei in assoluto gli ultimi 200. Che dire, ha cinque anni inoltrate, ha ancora queste performance, bisogna essere estremamente contenti. A tutti una buona giornata, le previsioni per oggi, soleggiato e limpido con residua nuvolosità al mattino sulla bassa padana, ventilato da nord al mattino su Alpi e Prealpi, all'alba leggero rialzo termico per Favonio su Varesotto e Comasco, le temperature minime tra 1 e 5 gradi a 1200 metri meno 2, le massime attorno a 10 gradi sulle Alpi meno 5 a 2000 metri. Per questa edizione del pranzo è tutto, TG torna alle 20.30, buona giornata e arrivederci.